Stai ascoltando un podcast per Izzogli Education. Immersi nel mondo di Eleonora Sacco. Hai preparato lo zaino? Noi siamo pronti per partire insieme a Eleonora Sacco. La prima parte del nostro viaggio si svolgerà in Italia. Attraverseremo lo stivale lungo la via Francigena, scaleremo il vulcano di Stromboli, andremo alla scoperta degli appennini e delle rive del fiume Po. Salta su, è tempo di andare. La via Francigena. Un passo, un altro, ancora un altro, non mancherà molto. Forse un chilometro e mezzo. Quando mi fanno male i piedi inizio a contare per distrarmi. Fino a cento se sono stanca, fino a otto se sono molto stanca, fino a quattro se sono distrutta. Conto perché arrivare alla fine di una sequenza è un traguardo e mi sento già arrivata a ogni passo. Mi ricorda che l'importante non è la meta finale, ma andare. A Bari finalmente si vede il mare. Ogni volta che lo vedo mi mette di buon umore, sa, di estate, di vacanze, di gelati e di palloni che volano. Qui in Puglia è azzurro brillante, anche se sta arrivando l'autunno, con le prime piogge. L'acqua è calda e scroscia sugli scogli, mentre all'orizzonte si muovono grossi nuvoloni neri. Bari è spontanea e elegante, con un tocco esotico, il profumo irresistibile delle panetterie, i peperoncini appesi a seccare sui muri bianchi della città vecchia, i vicoli stretti e tortuosi. Perdersi a Bari vecchia è facilissimo, le signore che fanno le orecchiette sugli usci di casa lo sanno. Ti vedono che vieni da lontano e ti indicano la strada con una bella risata. Meno male che ci sono loro. Il GPS e le mappe sul cellulare puoi dimenticartele. Lì dentro, in quel labirinto, sono completamente inutili. E poi sono sulla via francigena. Camminare seguendo il GPS è un po' come barare, mentre cercare i segni bianchi e rossi, gli adesivi, i messaggi sparsi lungo il percorso, è un po' come una caccia al tesoro molto più divertente. E poi, mille anni fa, i pellegrini non usavano mica il GPS. Dopo tanti chilometri, tutto il corpo inizia a sentire di più, a percepire ogni cosa con più intensità. L'odore delle coltivazioni man mano che si attraversano le campagne, cavoli, prezzemolo, sedano, peperoni. L'odore del mare carico di sale che mi appanna agli occhiali. Il rumore della città, che dopo che sei stata una giornata intera in mezzo agli ulivi, è assordante, anche se stai passando in mezzo a un piccolo paesino. L'asfalto sotto i piedi fa male, scalda le suole delle scarpe, schiaccia il piede. La sabbia è più morbida, ma si fa troppa fatica. La terra battuta è il terreno migliore, duro, ma anche elastico. E poi, all'improvviso, ci penso. Sto calpestando la stessa terra di migliaia e migliaia di pellegrini e viaggiatori che in oltre mille anni hanno seguito esattamente questa strada, venendo da ogni angolo d'Europa. Beh, io non ho molto di che vantarmi, perché a Bari sono venuta in treno senza fare fatica. Loro invece arrivavano da qualche paesino della Francia, della Germania, o magari da qualche isola del mare del nord. Camminavano per mesi e mesi, magari per duemila o tremila chilometri, senza mai vedere il mare da vicino, fino a Bari. Una visione incredibile, un prodigio. Chissà cosa provavano ad avvicinarsi a una spiaggia e a toccare l'acqua, correndo indietro per non bagnarsi i piedi. Se mi concentro bene, sento la loro stessa gioia. Era la fine di una lunga avventura e l'inizio di un'altra ancora più grande. Per arrivare fin lì avevano scampato decine, centinaia di pericoli. Potevano essere assaltati dai briganti o perdersi in un bosco fittissimo. Potevano non trovare un posto dove dormire quando faceva buio, rimanere senza acqua o senza cibo per giorni. Potevano ammalarsi o farsi male. Invece, dopo migliaia di chilometri a piedi, attraverso le Alpi, le pianure e gli appennini ce l'avevano fatta. Il mare. Finalmente! Mare significa che non ci si perde più. Basta seguire la spiaggia sempre verso sud, verso Brindisi, Otranto, Santa Maria di Leuca. Mare significa una grande certezza. Se segui la costa, prima o poi, arrivi a un porto. E se arrivi a un porto, arrivi anche a una barca che ti porterà ancora più lontano, a Gerusalemme. I piedi iniziano a farmi davvero male. In ogni tappa della Via Francigena si cammina tra i 20 e i 30 chilometri al giorno. Per fortuna, almeno in Puglia, il percorso è tutto piatto e in alcuni punti è proprio in riva al mare. Sul suono delle onde seguo sentierini strettissimi tra una caletta e l'altra. Ci sono grotte segrete, scogliere, torri possenti che proteggevano la costa dai pirati. Ce n'era una ogni 4 chilometri per comunicare i pericoli in tempo reale prima che esistessero i cellulari. A volte le torri ci sono ancora anche se i pirati hanno cambiato mestiere, a volte rimane solo il nome sulle mappe. Torre a mare, torre Canne, torre Santa Sabina, torre Guaceto. I pellegrini che arrivavano qui ormai erano allenatissimi e forse camminare lungo il mare in luoghi così mozzafiato doveva sembrare un sogno. Seguendo la via Francigena dovevano valicare le Alpi sudando su salite ripidissime fino al Colle Gran San Bernardo. Da lì scendevano nella Valle d'Aosta fino alle colline dove c'è Ivrea. Lasciavano l'aria fresca delle montagne per attraversare la grande pianura padana. Chissà che caldo soffocante dovevano trovare d'estate o che freddo gelido d'inverno. Da lì valicavano l'Appennino tra Liguria e Toscana arrivavano a Sarzana poi a Massa e poi scendevano in mezzo alle campagne fino a Roma. Immaginatevi che emozione che immagine incredibile doveva essere per loro arrivare in una città così grande così importante piena di centinaia di chiese e pellegrini da tutta Europa. Immaginatevi che emozione che immagine incredibile doveva essere per loro arrivare in una città così grande così importante piena di centinaia di chiese e pellegrini da tutta Europa ma anche taverne dove si beveva si mangiava locande dove dormire mercati pieni di profumi deliziosi odori immondi dove comprare quello che serviva a proseguire. Per molti il viaggio finiva nella città eterna mentre altri continuavano fino ai porti della Puglia per un altro mese di cammino e poi per navigare verso oriente. Ecco oggi inizio anch'io con un occhio il mare con l'altro gli uliveti sempre verso sud uno due tre quattro si va un passo dopo l'altro. Seguici su rizzoglieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Immersi nel mondo di Eleonora Sacco hai ascoltato un podcast per il soli education di